e allora amici di youtube benvenuti o bentornati qua sul canale di burchi pagellone calciomercato serie b estate 2022 si preannuncia di fatto è già iniziata già si è preannunciata una a due di fatto perché comunque questa serie b è veramente veramente molto molto interessante e molto molto bella quest'anno sarà così per tutta la stagione ci sono veramente delle corrazzate delle squadre che si sono rinforzate all'ultimo secondo squadre che sono partite lentamente rispetto un po a quello che ci si aspettava squadre che hanno fatto un calciomercato abbastanza negativo sono arrivati dei giocatori che io non conosco che magari voi conoscete più nello specifico insomma c'è sicuramente tanta carne al fuoco di cui andare a discutere di cui andare a parlare e andiamo a fare il pagellone di questo calciomercato estivo della serie b però prima di partire con il video vi chiedo tantissimi like mi raccomando supportate i miei contenuti iscrivetevi al canale condividetelo con tutti i vostri amici iscrivetevi tutti al canale di burchiato lo youtuber mare in mano perché è di vitale importanza il vostro supporto e condividetelo con tutti i vostri amici con tutti le vostre amiche e quant'altro ragazzi con tutti i vostri compagni di scuola di merende di calcetto volleyball barbinton ragà paddle e quant'altro mi raccomando di vitale importanza attivate anche la campana per rimanere informati ed aggiornati tutta la settimana e fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pagellone perché sono curioso di sapere anche la vostra partiamo subito andiamo a sentenziare in ordine alfabetico l'ascoli allora l'ascoli io ho dato 6 più perché comunque l'ascoli secondo me io non ero tanto convinto dal discorso che aveva cambiato allenatore non farà secondo me raga una stagione sempre 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 altissima su questi livelli che magari è iniziato ora però sono arrivati dei giocatori funzionali sono arrivati dei giocatori che per me ecco possono andare a ricoprire quel qualcosina che mancava a livello di partenze a parte che Saric e raga Baschirotto io non vedo altri giocatori comunque di rilevanza che sono andati via quindi per me hanno fatto un calciomercato sufficiente che gli permetterà di mantenere la categoria e chissà magari con qualche possibilità di arrivare al playoff anche se secondo me sarà complicato al Bari do 6 e mezzo perché il Bari per me a livello di cessioni non ho visto giocatori di particolare rilevanza che sono andati via dal Bari ha aggiunto veramente dei tasselli importanti come Chedira come lo stesso Folorunzo è arrivato Salsedo dall'Inter, Bellomo, Terranova, Maiello insomma ecco diversi acquisti che per me Seter, diversi acquisti che per me possono consentire al Bari di salvarsi di fare un bel calcio come sta facendo quindi do 6 e mezzo appunto al Bari di Mignani al Benevento do 8 e mezzo do 8 e mezzo raga perché? Perché il Benevento per me quest'anno per la prima volta io veramente so diverse stagioni che lo dico e lo ribadisco soprattutto comunque l'anno scorso con il ritorno in Serie B dico al Benevento manca un difensore centrale in più al Benevento manca un terzino che possa essere più duttile al Benevento manca un centrocampista centrale in grado di fare gioco in una mezzala di esperienza manca un attaccante forte mancano ecco delle alternative valide in panchina devo dire che quest'anno se si va ad analizzare tutto il calciomercato in tutto e per tutto da un punto di vista in primis di entrate perché comunque se si va appunto a guardare il calciomercato in entrata il Benevento ha completato bene 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 la rosa con un mix di esperienza e di gioventù e ha dato via tutti i giocatori che avevano finito il ciclo a Benevento tutti i giocatori che non rientravano nel progetto coloro che volevano andare via ha diminuito il monte in gaggi e c'è questo mix di rosa tra gioventù e esperienza che per me è veramente una squadra interessante quindi sì Benevento quest'anno 8 e mezzo sono veramente contento il Brescia a me non mi scalda il calciomercato del Brescia a me vi dico la verità non scalda poi magari mi sbaglio non vedo cioè sì qualche giocatore è arrivato ma non vedo un salto di qualità assolutamente perdono un portiere come Joronen è andato via anche Payak per resto sì ho preso Lezzerini che però era di fatto quant'era che non giocava arriva Federico Viviani dalla Spal che però nell'ultima stagione è stato un po' in ombra per resto sì benali però mi aspettavo onestamente di più dal Brescia ecco non so qual è l'obiettivo penso sarà sempre assolutamente i playoff però non mi scalda quindi sei meno al Brescia di Clotet per quanto riguarda il Cagliari io do sei ragazzi tantissime cessioni che erano comunque ecco inevitabili e per il resto sì sono arrivati dei giocatori come la Padula come Viola il ritorno di Mancosu però sì Carboni in prestito Pippo Falco però ragazzi io mi aspettavo di più mi aspettavo di più dal Cagliari vi dico la verità mi aspettavo ecco almeno un altro uno barra due colpi in più di rilevanza va bene sì anche Millico Barreca stesso discorso di Veroli e di Pardo sì però mi aspettavo ecco proprio uno barra due nomi in più di rilevanza e poi io vi dico la verità io un giocatore come Tramoni l'avrei tenuto per il resto per me potevano andare via tutti però almeno Tramoni e anche Carboni l'avrei tenuti assolutamente soprattutto ecco Tramoni visto che comunque è andato sempre al Pisa in Serie B però anche il discorso del giovane Andrea Carboni per me andava tenuto quindi io non do oltre alla sufficienza al Cagliari la sufficienza è anche abbastanza streminzita vi dico la verità Cittadella 6 e mezzo perché il Cittadella si è mosso per me con intelligenza comunque va visto anche il budget che hanno le società non ha né ragà venduto chissà che e poi a parte che Asensio che può essere un giocatore funzionale molto molto interessante non ha preso di fatto quasi niente però per me ecco do 6 e mezzo anche perché ha mantenuto determinati giocatori che possono essere importanti secondo me si ha mantenuto ecco un progetto a livello tecnico-tattico importante quindi per me il Cittadella sul 6 e mezzo bisogna anche andare a vedere quali sono le disponibilità economiche delle squadre ecco questo secondo me va tenuto in considerazione e il montengaggio assolutamente per quanto riguarda il Como ecco il Como ragazzi ha fatto un calciomercato veramente veramente importante io al Como ho dato 8 e mezzo quasi 9 perché veramente è una squadra che si è rinforzata tantissimo sono arrivati dei giocatori veramente top il top del top è Fabregas ma comunque ecco la conferma di Cerri Ian Nowill la riconferma per quanto riguarda poi il discorso di Mancuso il giovane Delicarri Dariva Cutrone Baselli cioè ragazzi tanti tanti giocatori vignali tanti tanti giocatori forti pronti nell'immediato per provare a fare quel salto di qualità e io vi dico cioè è lo stesso appunto raga Vigorito e Ghidotti insomma tanti altri giocatori che per me possono andare sicuramente a fare bene e a livello anche di diciamo di uscita a parte Gliozzi non è uscito nessuno per me è uno dei calciomercati più interessanti più belli e anche sono arrivati veramente giocatori che spostano come comunque ripeto e ribadisco Cutrone Baselli Mancuso e Fabregas sono giocatori che ti spostano tantissimo quindi 8 e mezzo quasi 9 al 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 per quanto riguarda il Cosenza è per me il calciomercato del Cosenza è passato un po' diciamo in in secondo piano perché il DSG mi si è mosso bene per me veramente il Cosenza ha preso giocatori che possono dare una grossissima mano a parte la perdita di caso non vedo grossi giocatori che possono spostare che sono andati via e quindi io alla fine del calciomercato ho dato 7 meno perché a me il Cosenza è una squadra che si è rinforzata nel modo giusto secondo me per quanto riguarda il Frosinone do 7 più perché comunque il Frosinone ecco appunto arriva un giocatore come caso che sicuramente ti può fare far fare molto molto bene stesso Insigne e Mulattieri il doppio colpo dal dal Monza Mazzitelli e Sampirisi l'esperienza di Lucioni potenti giovani interessanti è vero anche che sono andati via giocatori che sono stati fondamentali nelle ultime stagioni come Ciano lo stesso Canotto Zampano Novakovic però comunque ecco per me il calciomercato in entrata è sicuramente un calciomercato molto molto interessante quindi do 7 più al Frosinone il Genova Don 9 a Genova Don 9 perché comunque ragà hanno aggiunto giocatori che ti spostano tanto giocatori pronti giocatori come Strotman giocatori come Coda giocatori come Aramu un giocatore ragà come Puskas che è arrivato dietro hanno preso Dragusin Pajax che è arrivato dal 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 Brescia appunto più anche altri giocatori che non conosco che però possono essere sicuramente giocatori molto molto importanti e molto molto forti anche dal punto di vista comunque delle cessioni ha dato via giocatori che per me erano inevitabili di andare via come per esempio Cambiaso anche il discorso di Agudelo che poi è ritornato allo Spezia Ghiglione poi abbia le cessioni comunque di giocatori che non c'erano stati l'anno scorso come Paliari e Caso e poi Destro che ha finito il contratto però comunque per me è veramente un calciomercato importante il Genova si è mosso intelligentemente ha dato giocatori prontissimi nell'immediato per provare ad andare in Serie A quindi il voto è 9 molto molto alto e se lo meritano per me il Modena do 7 perché il Modena da neopromosso per me raga di giocatori importanti di giocatori per il campionato cadetto che possono fare bene non ha dato via nessuno sono arrivati giocatori di esperienza giocatori che possono andare sicuramente a dare una grossa mano nello scacchiare di Tesser che è un allenatore molto molto esperto che sarà il valore aggiunto quindi do 7 al Modena al Palermo del neotecnico Corini della nuova società raga do 8 do 8 perché sono arrivati giocatori molto 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 importanti a Palermo la squadra è stata cambiata molto è stata cambiata comunque per raggiungere dei traguardi importanti e lo certificano comunque gli acquisti ecco la riconferma di Brunori Segre l'arrivo di Di Mariano l'arrivo di Saric Stulac Mateju Elia Bettella tutti i giocatori ragazzi che possono veramente ecco tutti i giocatori di alto livello della parte che possono ecco andare a fare molto molto bene in Serie B diversi di questi sono giocatori che per me potrebbero ritagliarsi anche uno spazio o comunque ecco non magari in pianta stabile però in Serie A quindi il Palermo ha lavorato molto 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 bene molto 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 bene veramente il Palermo e io comunque alla squadra siciliana do 8 al Parma do 7 e mezzo perché do 7 e mezzo perché il Parma quest'anno sono arrivati giocatori esperti giocatori che per me possono veramente quest'anno far fare un salto di qualità importante possono andare a migliorare sicuramente quello che è stato il rendimento del Parma delle ultime due stagioni veramente disastroso ma poi anche dal punto di vista delle cessioni finalmente in Emilia si è visto comunque ecco una bella asfoltita della rosa sono andati via giocatori che hanno sicuramente portato dei soldi negli introiti degli introiti che servivano perché comunque era stato veramente speso tantissimo a Parma e anche il Montengagio è stato un po' così diminuito e sicuramente hanno fatto veramente un buon lavoro io do sette e mezzo al Parma al Perugia io do tra il 5 e il 6 non mi scaldo onestamente il calciomercato del Perugia questo neocorso di Castori a me raga non veramente non è una squadra che secondo me nonostante comunque l'arrivi magari di un Casasola un giocatore esperto come Di Carmi lo stesso Bartolome della Cremonese arrivano anche qualche giocatore giovane interessante però per me è un calciomercato che il Perugia va più a perderci che a guadagnarci quindi tra il 5 e il 6 non mi scalda poi sono pareri soggettivi chiaramente per quanto riguarda il Pisa do 9 e mezzo raga il Pisa ha investito tantissimo ora qui sta tutto a Maran allora Lucca è andato via ci si sapeva che andava via è arrivata una somma molto molto importante comunque dalla sua cessione giocatori comunque come anche Brindelli che è stato un po' un fulmino c'è il sereno ha lasciato Pisa poi sono andati via anche tanti altri giocatori che magari sono andati a giocare anche in squadre minori c'è stata anche la cessione di Leverb però poi sono arrivati comunque giocatori come Rus Beruato Iureskin Tramoni Gliozzi Calabresi Ionita Barba Torregrossa Morutan Calestrelli Estevez Estevez Sisse e Obam raga che non conosco però veramente il Pisa ha investito tanto ha investito bene si merita un voto molto molto alto il voto più alto che ho dato è 9 e mezzo appunto ai nero azzurri ora sta tutto a Maran vedere come riuscirà a lavorare sicuramente il tecnico pisano alla regina do 8 do 8 perché per comunque le modalità con cui è stata costruita questa nuova regina con Filippo Inzaghi veramente in tempi brevissimi c'era stata quelle problematiche societarie si rischiava molto poi è stata comunque trovata una soluzione la squadra per me è una squadra che servirà a tempo però è da parte sinistra della classifica in più Inzaghi è un allenatore veramente bravissimo per la categoria è un allenatore che io apprezzo molto fin dai tempi di Benevento e devo dire che comunque io do 8 perché ho fiducia nel calcio mercato della regina mi piace come è stata costruita questa squadra alla SPAL do 6 e mezzo perché per me comunque ragazzi la SPAL è una squadra che tutto sommato tutto sommato ha aggiunto quel qualcosina per migliorare il rendimento dell'anno scorso secondo me non è una squadra che farà grosse cose però la vedo un pochino meglio rispetto alla scorsa stagione quindi io do 6 e mezzo alla SPAL di Venturato per me comunque anche qui il DS Lupo si è mosso abbastanza bene per quanto riguarda poi dopo la SPAL abbiamo il Sud Tirol io al Sud Tirol raga do 5 ma non è che perché so cattivo perché comunque hanno lavorato hanno operato tanto sul calciomercato però la squadra consegnata prima a Zauli e ora a Bisoli che veramente viene chiamato a fare un miracolo non è all'altezza del campionato quindi do 5 ma non perché so contro gli altatesini perché per me è un calciomercato insufficiente per la Serie B alla Ternana stesso discorso del Perugia io veramente ho dei dubbi sul calciomercato della Ternana do tra il 5 e il 6 è una squadra che per me magari ecco uno dirà sì però è vero che comunque è arrivato un giocatore come Di Tacchio è arrivato un Favilli che magari può fare anche bene stesso discorso arriva Cassata Mantovani è vero ragazzi poi ci sono anche altri nomi che comunque possono tipo Raul Moro possono fare bene quant'altro Falletti però a me non lo so non è un calciomercato che mi scalda tantissimo posso dargli un voto un po' più alto ecco del Perugia se è il Perugia è più verso il 5 alla Ternana è più verso il 6 però si poteva fare onestamente onestamente di più perché poi se si va a vedere anche le cessioni sicuramente ecco ci sono dei giocatori che per me potevano anche essere riconfermati o comunque essere sostituiti in maniera migliore dal calciomercato questo è quello che penso magari mi sbaglio assolutamente per quanto riguarda il Venezia per me questo è un calciomercato insufficiente sono andati via giocatori veramente importanti arrivano tante scommesse che io non so valutare tanti che non le conosco però per me è un calciomercato non ecco che non proprio diciamo nettamente insufficiente però io do 5-5 e mezzo al calciomercato del Venezia perché a parte che magari sbaglio tanti giocatori non li conosco però a me non è che mi scalda un granché vi dico vi dico la verità il calciomercato che ha fatto il Venezia poi magari qualcuno mi smentirà qua sotto nei commenti assolutamente ognuno è libero di pensarla a modo suo ditemi la vostra cosa ne pensate perché comunque sono curioso di sapere anche le vostre impressioni un bel like se vi è piacere comunque non vi costa niente ragazzi vi costa una sega quindi un bel like mette i titoli se vi è piacere ulteriore piacere iscrivetevi al canale di Burki alla prossima come dico sempre ciao bravo a tutti